Muoversi. Infomobilità in Campania. Sulla tre Napoli-Salerno, sino alle 12 di oggi, per verifiche tecniche è chiuso lo svincolo Ercolano-Scavi in uscita in direzione Napoli. Ancora sulla tre Napoli-Salerno, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani, per lavori è chiuso il tratto compreso tra le uscite Cava dei Tirreni e Salerno in direzione Salerno. E sulla stessa arteria, nella stessa fascia oraria, per un cantiere è chiuso anche lo svincolo Napoli-Via Marina in uscita verso Napoli. Sulla tangenziale di Salerno, dalle 22 di questa sera alle 6 di domani, per lavori attivo il restringimento di carreggiata nel tratto compreso tra lo svincolo Sala-Bagnano e il casello di Ponte Cagnano della 2, in entrambe le direzioni e entrati saltuari. Oggi a Napoli, nelle fasce oraria 9, 12 e 30, 14 e 30, 16 e 30, è vietata la circolazione sull'intero territorio urbano, ad eccezione di alcune tipologie di veicoli. Tutti i dettagli al nostro sito è all'indirizzo www.muoversi.regione.campania.it Dalla redazione Muoversi in Campania, Nunzia Acamfora.